Maika, maglia nuova, maglia gialla per una nuova avventura, insomma si comincia a giocare anche per l'Europa, per la Champions. Sì, sì, è sempre bellissimo essere in questo torneo di Champions. È sempre difficile, è sempre diversa, però è una bella opportunità subito a giocare contro la Lube, ma anche contro una bella squadra in Zax, anche a Repubblico Ceco, quindi è un girone molto difficile ma molto bello per dimostrare il nostro gioco. Si comincia proprio contro la Lube, ci avete giocato pochi giorni fa, da dove si riparte? In campo, subito aggressivi, subito con la confidenza per batterli, perché sicuramente sappiamo che ci manca pochissimo. Questa settimana, in allenamento, prima la partita, lavoriamo per migliorarci, per correttare, come si dice, correggere questi errori che abbiamo fatto e andiamo in campo con tutta la confidenza per batterli. Che accoglienza ti aspetti a Civitanova? Non lo so, non lo so. Io spero che mi ricevano bene, mi ricevano felici, però io per questa volta vado a giocare una partita di pallavolo. Io sicuramente ho tanti amici lì, però se voglio andare lì per salutare i miei amici vado con la vacanza. Questo è una transferta di negozio, di business. Io vado lì per giocare una partita per vincere una partita di pallavolo e forse dopo vado a salutare i miei amici, ma il primo obiettivo è sempre vincere. La Champions League la conosci bene, è una competizione dura. Quest'anno è ancora più dura di quella del passato, sarà ancora più difficile andare avanti? Sì, sì, sembra sempre così. L'anno prossimo è sempre più difficile passare, soprattutto in Champions, però c'è la possibilità, quindi facciamo tutto per passarci. Sarà veramente difficile, dobbiamo andare a Civitanova, a Zaxa, al Repubblico di Czech, però ce la facciamo. Siamo abbastanza abituati per giocare in questo torneo, anche ogni tre giorni è difficile, una partita ogni tre giorni, però siamo pronti fisicamente e anche mentalmente. Ti piace la maglia gialla? Sì, 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 mi piace molto perché è un po' diverso, abbiamo questo chance per cambiarsi un po' in campo e è bello, mi piace tanto.